Il Ligata assapora la vittoria, ma solo per un tempo. Al triplice fischio i gialloblu si devono accontentare di un pareggio, raggiunto dal Sambiase nei minuti finali, pareggio che lascia amarezza per come si era messa la gara che le Aquile, nonostante i tentativi, non sono riusciti a chiudere il match. Enrico Bono con un gran gol al volo, aiutato da un diagonale di Capitano Grillo, a sbloccare il risultato sul finire del primo tempo. Un gol che dà morale alla squadra, allenata dal Romano, a secco di vittorie da ben sei partite, inclusa la gara di ieri. Nella ripresa cale il ritmo partita e i gialloblu lasciano più campo agli ospiti che si rendono particolarmente pericolosi al 32esimo con il neoentrato russo, ma Valenti risponde e pare un gol quasi fatto. Nonostante la difesa 5 schierata dal Romano con semprevivo che entra al posto di Riccobono, i calabresi riescono a trovare il gol proprio quando la gara stava per terminare. Al 42esimo l'ex Manfred lavora bene un pallone, lo serve ad un compagno che crossa in aria dove sul secondo palo sa basta Geraldino Liotta. A fine gara arrivano le contestazioni dei tifosi, in particolar modo della curva, alla dirigenza licatese.